Buongiorno, benvenuti, questa è la segna stampa di oggi 6 dicembre, San Nicola, tanto per dirvi un po' oggi che importanza di giornata c'è per noi meridionali. Vabbè, andiamo avanti sulle cose importanti che sono quelle dei giornali oggi, la manovra scontro sulle tasse, questo dal punto di vista economico è il tema della giornata, perché il partito antitasse, perché così si sta posizionando il partito di Renzi, Italia Viva, dice che non vuole la tassa né sulla sugar né sulla plastica e quindi secondo il messaggero mancherebbero all'appello almeno 500 milioni, però bisogna sempre ragionare sul fatto che se ti dicono che non vogliono una tassa da qualche parte fanno bene, ovviamente ne abbiamo discutto ieri sera nella presentazione del libro Le tasse invisibili, una sala stupenda, enorme di Verona e vi ringrazio tutti per essere accorsi così numerosi a sentire la presentazione del libro, ma quello che insegna le tasse invisibili, ma quello che anche il buonsenso insegna è che se io tolgo una sugar tax e mantengo i saldi invariati, cioè non cambia la somma di quello che devo recuperare dai cittadini, da qualche altra parte le tasse lo metto e lo leggo sulle 24 ore di oggi in cui le imprese sono furibonde, perché è vero che la plastic tax potrebbe essere ridotta, è vero che la tassa sulle auto aziendali potrebbe essere ridotta, è vero che potrebbe essere rimodulata la sugar tax, ma hanno aumentato al 3% le tasse sui concessionari, la Robin Tax che si chiama così perché evoca Robin Hood, ma alla fine ragazzi le tasse vanno a finire, come dicevamo ieri, sempre sui consumatori, non ci sono cazzi, cioè alla fine vengono come si dice tecnicamente traslate, metti 2 miliardi di tasse sulle banche, vanno a finire nei conti correnti, metti un miliardo e mezzo sulle imprese e vanno a finire sui cittadini, insomma le tasse alla fine le paghiamo noi, quindi manovra scontro sulle tasse e il posizionamento di Italia Viva e di Matteo Renzi che comunque fa bene a dire che non si paghino tasse assurde come quelle sulla plastica e sullo zucchero. Sul salva stati, grandi temi che poi dopo un po' ci abbandonano, oggi da segnalare soltanto l'intervista del vicepresidente Dombromsky, il cattivo, il Falco, ve lo ricordate, quello che nella passata legislatura, scusatemi, non legislatura, governo, aveva attaccato l'Italia di Salvini e di Di Maio e che oggi è diventato una super colomba, però sul salva stati dice non mi aspettavo questo scontro con l'Italia e vabbè e qua ci sta. L'automatismo mai esistito, dice, l'automatismo era quel procedimento per il quale se uno stato chiedeva degli aiuti al fondo salva stati avrebbe dovuto rivedere in maniera automatica la sua posizione sul debito. Allora qui però c'è un problema perché il ministro Tria, che è quello che ha trattato il salva stati a giugno dell'anno scorso con il governo giallo-verde, dice che l'automatismo c'era ma che lui lo ha eliminato, lo ha sventato e che grazie alla sua intervento del passato governo è stato modificato quello che gli olandesi tedeschi volevano, cioè appunto l'automatismo. Allora una delle due, o dice una minchiata Tria o la dice Dombrovski, perché questo automatismo c'era stato e l'avevano provato, ma comunque su questa vicenda ovviamente indagheremo e continueremo ad indagare nel futuro. Altro tema grande di giornata che in realtà tengono in piedi, non in quella giusta evidenza, i giornali è la questione Fiat. Cosa è successo? Quando la Fiat nel 2014 decise di andare in Olanda valutò sostanzialmente quali erano i suoi attivi per trasportarli dall'Italia all'Olanda e su quelli pagare delle tasse, una sorta di tassa d'uscita. Il valore che si diede Fiat era di 7,5 miliardi, invece oggi scopriamo che l'agenzia delle entrate valuta quella uscita di asset dall'Italia in 12,5 miliardi. Ve la faccio breve. Sostanzialmente hanno, quelli dell'agenzia delle entrate hanno detto in quell'operazione tu hai evitato di pagare imposte per 1,5 miliardi. Siccome siamo gente di mondo e tutti noi sappiamo come funziona il fisco, sappiamo che questo è un accertamento, è una richiesta, è una trattativa. Poi sono quelle trattative per cui l'agenzia delle entrate sappiamo che spara altissimo per poi ottenere poco? In realtà quando spara altissimo con noi poveri Cristi noi paghiamo tutto. Quando spara altissimo con le grandi aziende, con Google, col Kering, con Fiat, con loro, alla fine si fa una trattativa e si ottiene di meno. Qual è la posizione dei giornali in campo su questa vitenda Fiat? Perché dovrebbe essere così banalmente. Greco tante volte ci ha fatto vedere su Google, su Amazon, su Kering di recuperare molti quattrini avendo chiesto anche tantissimo. Su McDonald's pure si inventarono una roba pazzesca per cui McDonald's alla fine vinse. Per il fatto ecco il trucco della Fiat. Per Belpietro pensare che Renzi vuol cambiare il capo dell'agenzia delle entrate e vuole mettere il suo uomo, che sarebbe Ruffini, che c'era prima nell'agenzia delle entrate, peraltro una persona molto, secondo me, ragionevole. Oggi a capo dell'agenzia delle entrate invece c'è un uomo della guardia di finanza che è una cosa, sarà bravissimo sicuramente, ma è una cosa del tutto inusuale che a capo dell'agenzia delle entrate ci sia un uomo della finanza, perché dovrebbe essere un ente terzo più o meno, l'agenzia delle entrate, non una parte in causa. Ma lasciamo perdere, Belpietro dice, Renzi proprio l'uomo che fotte la Fiat lo vuole tirar fuori. Il tempo invece di Bekis, ora vogliono fargli pagare alla Fiat una posizione terza rispetto agli altri due giornali fatto e libero che mi sembrano sulla stessa linea. Intanto, fantastico, sul reddito di cittadinanza oggi c'è una velina dell'Inps che dice che è diminuita del 50% le persone in povertà, perché dicono abbiamo dato 2,5 milioni di persone l'assegno del reddito di cittadinanza, erano 5 milioni poveri, quindi è diminuita del 50% la povertà. Se fosse così facile era il decreto di Di Maio per abolire la povertà, è del tutto evidente che il reddito di cittadinanza dura poco, perché dura 18 mesi, poco, tanto secondo i vostri gusti, ma soprattutto tutto non ha portato a un nuovo lavoro, quindi non hai ridotto la povertà, hai tamponato nella migliore delle espressioni la povertà, ma la cosa straordinaria è che questo rapporto da chi arriva? Dall'Inps. Chi è presidente dell'Inps? Tridico. E chi è Tridico? L'uomo che si è inventato per il Movimento 5 Stelle il reddito di cittadinanza, cioè è il bue che si dà del cornuto, no, è del bue che si dà del bue. Insomma, è veramente favolosa, cioè direi loro il partito del conflitto di interessi, qua ci sarebbe un conflitto di attribuzione, cioè se la canta e se la suona, come dicono a casa mia, toc toc, tridico, baci piano sulla diminuzione del 50% della povertà, o stai, diciamo, esagerando, o ti stai facendo un'autopippa, ecco, io sarei per tutte e due messi insieme. Nel frattempo un custode in una casa prende, spara, dopo che entrano sei persone in quella casa e in quella villa cercano di entrare, ne uccide uno. Allora, come dice oggi forse Mottola sul Libero, noi in genere pensiamo che quando si entra in una casa e si cerca di rubare in quella casa e poi si viene feriti o uccisi da qualcuno che sta lì a vigilare, beh, insomma, diciamo un po', anzi, lo dico molto sinceramente, te la sei cercata, non si entra nelle case a rubare. Poi dopo, se c'è un'esecuzione, si può anche parlare di eccesso di legittima difesa, ma non si entra nelle case a rubare. Adesso, voglio dire, tra entrare nelle case a rubare e non infortunarsi, diciamo, sul lavoro il no trepassing americano ce n'è molta, però oggi mi sembra di capire dal quotidiano nazionale che questo custode che alle 5 di mattina chiama e racconta la moglie di questo custode che ha ucciso un ladro, beh, insomma, se la rischia grossa perché pare che ci sia l'accusa di omicidio preterintenzionale, questo è il quotidiano nazionale e quindi non sarebbe legittima difesa, tecnicamente potrebbe anche essere così, insomma. Bene, nel frattempo c'è un gran casino in Francia, il dicembre francese lo titola qualche giornale perché ci sono state 800 mila persone che hanno scioperato, hanno manifestato come fanno i francesi, cioè si corcano di botte per la riforma delle pensioni, sono andato a dover redermi sui giornali che cos'è questa riforma delle pensioni. Sostanzialmente in Francia c'è un sistema di pensionamento, diciamo, collettivo e ci sono tante casse autonome con tanti piccoli privilegi autonomi. Perché mi viene da ridere quando vedo questa roba qua? Perché penso a quello che era il sistema italiano vent'anni fa, cioè i francesi sono indietro rispetto a noi di vent'anni, perché ogni sistemino, i ferrovieri, i maestri, gli autotrambieri, i portatori di autobus in Francia hanno sistemi diversi, non omogenei, con privilegi locali e omogenei tipicamente corporativi, che noi con l'Inps diciamo un po' di riforme le abbiamo fatte, le abbiamo abolite. Tra l'altro la loro età di pensionamento è a 62 anni e non come la nostra, e vorrebbero aumentare di fatto l'età di pensionamento a 64. L'altra cosa straordinaria è che la pensione in Francia si calcola sui 25 anni migliori della propria vita lavorativa, voglio dire un sistema che in Italia non c'è più da molto tempo e in alcune di queste casse autonome addirittura sugli ultimi sei mesi, sugli ultimi due anni, cioè il vecchio sistema italiano. Sulla prescrizione il governo cerca di far pace, c'è un retroscena oggi del Corriere della Sera in cui dice che Grillo avrebbe chiamato a Di Maio e gli avrebbe detto stai tranquillo su prescrizione, salvo i stati, perché non voglio far cadere il governo, dobbiamo far la pace con il PD, Travaglio se la prende con tutti quelli, con la Gruber se la prende, Travaglio se la prende con la Gruber perché ha invitato Sgarbi, Carofiglio e Giannini e guarda caso tutti e tre dicevano che questa causa della prescrizione è una cagata pazzesca. Oggi ce la spiega anche Nordio per l'ennesima volta sul Messaggero, con questa riforma i processi avranno una lunghezza indeterminata. Straordinario come sempre Nordio, toc toc Travaglio li legge anche gli altri? O così, proprio capito? Bonafede, Bonafede, Bonafede Travaglio, guardate cosa dicono gli altri magistrati, cosa dicono gli altri analisti, fissati sul fatto della prescrizione. Tra l'altro oggi c'è un pezzo bellissimo di Peppino Sottile sul foglio, scusatemi, in cui dice che questa roba della prescrizione ha gran successo proprio tra quei magistrati per i quali i loro processi non finiscono mai e cita tutti quanti i processi di trattativa Stato-mafia che riguardano la Sicilia moschea selvaggia. Lo decide la Cassazione, scusatemi, la Corte Costituzionale secondo il giornale perché avrebbe deciso che le regole lombarde, cioè quelle di dare un'autorizzazione per costruire una moschea, sono regole che non sono valide perché la libertà di culto è tale che non può essere sottoposta al vaglio degli enti locali. E dice giustamente però Sallusti, beh ragazzi però parliamoci chiaro, qua non sono soltanto luoghi di culto, rischiano di essere spesso centri, diciamo, terroristici e allora forse il vaglio locale sarebbe utile. Di Di Maio ve l'ho detto, vabbè fantastico oggi MF, l'unico giornale che si ricorda di una cosa fantastica e cioè che una banca tedesca che si chiama Nord LB, sostanzialmente fallita, si becca 2,8 miliardi di aumento di capitale da parte dei Lander, delle regioni tedesche, ebbene la Commissione Europea considera questo non aiuto di Stato e dà il clearing, la libertà di poter fare questa operazione. La stessa Commissione Europea che ci ha fatto un mazzo così perché noi volevamo salvare Tercas e non solo Tercas con il fondo interbancario, che peraltro non sono neanche le regioni, cioè sono soldi accantonati dalle banche stesse, a noi no, mentre a loro sì, e allora qualcuno si può porre qualche dubbio sulla loro, diciamo, correttezza. Il Presidente dell'autostrada Cerchiai dice siamo ancora in corsa per Alitalia, però l'alleanza non la vogliamo fare con Delta ma con Lufthansa e poi riesce a capire perché le autostrade che controllano anche gli aeroporti di Roma, Atlantia che controlla l'autostrada e l'aeroporti Roma vuole Lufthansa e non vuole Atlantia, perché loro di Alitalia non gliene fotte nulla, a loro interesse di Fiumicino e si fa sfuggire Cerchiai, a Fiumicino potrebbe con Lufthansa diventare e nascere un hub europeo, ma in realtà ad Alitalia più che l'hub europeo interessa forse poter andare negli Stati Uniti dove fa 500 milioni di ricavi su 2 miliardi e mezzo, cioè l'accordo vero principe è con Delta, non ci prendiamo per il culo, Lufthansa verrebbe in Italia per farci un mazzo così, meglio forse per alcuni ma assurdo per la compagnia aerea, vi do un abbraccio, vi do appuntamento come sempre a domani con la zuppa di Porro sul sito nicolaporro.it, ciao!